Roma shot on target, early doors, in the sixth minute Or a head right, I should say Yeah, you can see as well Bamba has caused a few problems, number five for Roma Yeah, if they get the left hand side If they can get the ball to him, if they get the ball to him early Ma guardia, tra difesa e centrocampo c'è un muro praticamente Prova a ripartire Marcaletti Egoista, perde il pallone, astrologo in mezzo a quattro Astrologo in trenare, astrologo! Ma che gol ha fatto! Andrea Astrologo per il 2-1 Gol meraviglioso del capitano giallorosso In mezzo a quattro Serie di cambio piede col pallone La Roma, quota 19 e della Napoli 21 Apertora per Cervo, tutto solo la calcio Anzi il tiro, la conclusione è al fondo Attenzione adesso ancora alla Roma, break centrale Astrologo, prova il tiro! E qui c'è una grande risposta, il tuffo di Galante Il cui pallonetto su Moritti in uscita Pale la ciliegina su una torta, tutta giallorossa Finisce così almeno... L'8 marzo Pressing, forse nato del benevento a tutto campo Vedremo se riuscirà a reggere a questi ritmi Milanese, astrologo, attenzione al barco per Attenoria Vedremo se riuscirà a reggere il destro!